Il cinema ed i suoi protagonisti, i film in uscita, i meccanismi di incasso, ma anche le ricadute che le pellicole hanno sulla vita di ognuno di noi. Di questo si occupa ogni settimana Effetto Notte, il talk interamente dedicato al cinema e a chi lo ama. Fabio Falzone vi aspetta insieme ad attori, registi, giornalisti e ai ragazzi del Club di Effetto Notte. Martedì alle 20.15, sabato alle 16.15, domenica alle 21.25.